Ciao ragazzi e benvenuti sul canale ND. Girano sempre più persistenti le voci sulla presunta grave malattia o addirittura morte di Ramzan Kadyrov, il leader della Cecenia. Oggi vi racconto che cosa sta succedendo e vi spiego anche perché la scomparsa di Ramzan Kadyrov potrebbe essere un grosso problema per il Cremlino e un grosso vantaggio per l'Ucraina. Ragazzi continuate a guardare questo video, mettete un like se vi piace e come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie! Allora prima di iniziare vorrei ricordarvi brevemente chi è Ramzan Kadyrov. Kadyrov formalmente è il governatore della Repubblica Autonoma della Cecenia che secondo la Costituzione russa fa parte della federazione. Di fatto invece Kadyrov è una specie di luogo tenente nominato da Vladimir Putin per sorvegliare non solo la Cecenia ma anche l'intera regione del Caucaso, tutte le regioni del Caucaso che fanno parte della federazione russa. Infatti Ramzan Kadyrov diventò governatore della Cecenia nel 2004 a seguito delle elezioni diciamo così non esattamente credibili. Sostituì infatti suo padre Ahmad Kadyrov morto nel 2003 durante un incidente. Ahmad Kadyrov a sua volta fu nominato governatore della Repubblica della Cecenia nel 2000, subito dopo la fine della seconda guerra cecena. Vi leggo cosa scriveva a proposito nel 2016 il giornale dell'opposizione Nashvremia. Putin e Ahmad Kadyrov avevano una relazione davvero speciale. Alla fine della seconda guerra cecena il Cremlino riuscì a portare dalla sua parte uno dei leader più influenti dei separatisti ceceni, Ahmad Kadyrov. C'erano anche altre opzioni ma Ahmad fu l'unico a proporre al Cremlino di consegnare il potere nella Repubblica direttamente al presidente della federazione russa. Almeno fino alle elezioni del 2003. Elezioni che guarda caso aveva vinto proprio Ahmad Kadyrov. Un anno dopo Ahmad morì in un incidente e le elezioni straordinarie per l'incarico del governatore della Repubblica furono stranamente vinte da suo figlio 27enne Ramzan. E per farlo diventare governatore fu modificata addirittura la costituzione della federazione russa che non permetteva infatti di ricoprire questo tipo di incarico alle persone che non avevano raggiunto i 30 anni. E in questo modo il potere in Cecenia fu consegnato da Putin a una sola persona, Ramzan Kadyrov che lo stesso anno dichiarò anche di avere l'incarico da parte del Cremlino di ripristinare l'ordine non solo in Cecenia ma in tutto il Caucaso del nord. Sotto il governo di Kadyrov la Cecenia diventò la regione più finanziata e meno redditizia di tutta la federazione russa. Kadyrov e il suo entourage diventarono favolosamente ricchi e Kadyrov riuscì addirittura a costruire un esercito personale assolutamente non subordinato al ministero della difesa russo meglio conosciuto come divisione di Ahmad. I combattenti della divisione Ahmad partecipano attivamente anche all'invasione dell'Ucraina dove però come raccontano alcuni blogger militari russi svolgono compiti un po' particolari come ad esempio costringere i mobilitati russi a combattere e punire i dissertori. Kadyrov instaurò in Cecenia una dittatura severissima e gli anni del suo governo furono segnati da una vera e propria scia di sangue infatti sparirono nel nulla non solo migliaia di suoi oppositori in Cecenia come ad esempio numerosi esponenti del clan degli Yamadaev ma anche numerosi oppositori del regime in Russia come ad esempio estermineva Politkovskaya e Nemtsov. Secondo molti esperti Ramzan Kadyrov è utilizzato da Vladimir Putin non solo come garante di una certa stabilità in una regione molto turbolenta una regione che negli anni 90 ha visto due guerre sanguinosissime ma viene utilizzato anche per fare diciamo così del lavoro sporco con cui magari i servizi segreti russi non si vogliono sporcare le mani come appunto uccidere oppositori o giornalisti. In diverse occasioni Vladimir Putin ha fatto intendere che non vede alternative a Ramzan Kadyrov e di fatto lo considera l'unico garante di una certa stabilità in Cecenia. Ma come avvertono numerosi esperti un'eventuale rottura di questo equilibrio così fragile basato di fatto su relazioni personali tra Vladimir Putin e Ramzan Kadyrov potrebbe portare a delle conseguenze devastanti come spiegano infatti gli analisti dell'Institute for Study of War la morte di Ramzan Kadyrov potrebbe portare a una destabilizzazione della regione che Mosca potrebbe non essere in grado di gestire. Ma vediamo un po' cosa è successo in questi giorni allora le voci sulla malattia di Ramzan Kadyrov girano ormai da diversi mesi ancora a marzo l'editoriale tedesco Bild aveva fatto notare come Ramzan Kadyrov inspiegabilmente non era presente al discorso annuale ai parlamentari tenuto da Vladimir Putin evento che non aveva mai saltato in passato. I giornalisti facevano notare anche dei cambiamenti inspiegabili dell'aspetto fisico di Ramzan Kadyrov e un paio di mesi fa su alcuni canali telegram si discuteva sulla misteriosa scomparsa del medico personale di Kadyrov Suleymanov si ipotizzava che potrebbe essere stato ucciso perché accusato di non essere in grado di curare il dittatore finalmente il 15 settembre il canale ceceno dell'opposizione in ISO aveva scritto che Ramzan Kadyrov era in coma e che si trovava in un ospedale per gli altri funzionari del regime a Mosca e qualche giorno dopo l'oppositore ceceno Abu Bakr Yabugayev aveva scritto sul proprio canale telegram che Kadyrov addirittura fosse morto ma detta così ovviamente questa notizia non poteva essere confermata in nessun modo ecco che il canale dell'opposizione russo Vyorska aveva pubblicato alcuni dati sugli spostamenti del jet privato di Kadyrov da questi dati risultava che il suo aereo nella seconda metà di settembre aveva effettuato diversi voli verso la capitale russa Mosca e addirittura una cosa assolutamente insolita aveva effettuato anche una lunga sosta di diversi giorni nell'aeroporto moscovita di Vnunkovo ma non è tutto un paio di giorni fa il canale telegram russo CVK UGPU ha pubblicato alcune foto dal territorio dell'ospedale per gli altri funzionari del regime citato dai canali telegram ceceni in queste foto venivano identificate numerose auto con le targhe cecene alcune anche con le sirene ed era anche evidente che l'aria era sorvegliata dai servizi di sicurezza ceceni alcuni canali poi addirittura avrebbero riconosciuto in una di queste foto una guardia del corpo personale di Kadyrov inoltre in questi giorni sopra il territorio del Cremlino sono stati notati degli insoliti movimenti degli elicotteri legati subito da diversi blogger russi alla situazione con Ranzan Kadyrov e il portavoce di Putin Vladimir Peskov rispondendo alla domanda di un giornalista sulle condizioni di salute del leader ceceno è stato molto vago ha detto che l'amministrazione del presidente non dispone di informazioni riguardanti la salute dei governatori infine un paio di giorni fa sul canale telegram di Ranzan Kadyrov è stato pubblicato un video che teoricamente doveva smentire questa notizia ma invece di placare i sospetti li ha solo fomentati questo video riprende Ranzan Kadyrov che passeggia sotto la pioggia presumibilmente nel cortile della sua residenza a Grozny il problema è che questo filmato non può essere legato a nessuna data e quello che dice Kadyrov in questo video non smentisce in nessun modo le voci sulle sue condizioni di salute dice infatti solo che le passeggiate fanno bene e che sta ascoltando il Corano capite bene che un video di questo tipo poteva essere registrato anche diversi mesi fa e magari pubblicato da qualcuno difidato qualcuno che ha l'accesso all'account in questi giorni appunto nel tentativo di smentire la notizia sulle cattive condizioni di salute di Kadyrov comunque ragazzi continuiamo a seguire questa situazione che al momento non è molto chiara ed è in continua evoluzione vedremo anche che cosa succederà nel caso in cui Kadyrov dovesse essere veramente morto o magari non più in grado di ricoprire il proprio incarico di svolgere la propria funzione scrivete nei commenti che cosa ne pensate iscrivetevi al canale per cortesia se non siete ancora iscritti e grazie per la vostra attenzione ciao